Ciao, belli di zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Anche oggi preparatevi ad incazzarvi, farvi domande e incazzarvi ancora di più perché non trovate risposte. La storia che vi racconterò oggi è davvero misteriosa, nonostante siano passati ormai decenni da quando si è svolta. Oltre a questo si tratta di un caso davvero interessante che ha saputo coinvolgere e anche spaventare tantissime persone. Oggi non avremo un vero e proprio punto conclusivo e presto saprete il perché. Prima di cominciare velocemente vi ricordo di seguirmi su Instagram perché spesso YouTube fa il furbo e non vi manda le notifiche quando escono i video. In questo modo vi prometto che vi aggiornerò sempre tramite le mie storie e non vi perderete neanche una storia da brividi. Fatte tutte le premesse del caso direi che è arrivato il momento di mettervi comodi e liberare la mente. Iniziamo con la storia di Ina Jane Doe. È il 27 gennaio del 1993 e due ragazzine molto giovani, una di 10 anni e l'altra di 12, si trovavano in un campeggio dentro al parco statale di Wayne Fitzgerald situato nell'Illinois. Le due correvano e giocavano da parecchie ore e si stavano davvero divertendo tantissimo. Durante uno di questi giochi però all'improvviso e di sicuro inaspettatamente fecero una scoperta raccapricciante. Agrovigliata tra i rami di un cespuglio, trovano la testa mozzata di una donna. Cominciamo bene. Le due ragazzine rimangono terrorizzate a morte alla vista di quella testa e chiamano subito i loro genitori per chiedere aiuto. Gli adulti arrivano sul luogo e, anche loro scandalizzati da ciò che avevano visto, contattano subito le autorità, che nel giro di pochi minuti arrivano in massima allerta. Gli agenti appena arrivati si mettono a dispezionare l'intera area nei pressi del quale era stata rinvenuta la testa. Contrariamente a quanto si aspettavano, non trovarono altre parti del corpo. Non riuscendo ad identificare la donna, le diedero un nome fittizio, ovvero Ina Jane Doe. Per via del villaggio chiamato Ina, che si trova vicino a quel luogo. La loro priorità diventa quindi scoprire l'identità della persona a cui apparteneva quella testa. E grazie a questo dato avrebbero potuto poi interrogare i suoi parenti e le persone che frequentava. Dovevano cercare di capire chi fosse l'ultima persona che l'aveva vista. Ma identificarla non fu affatto semplice. Le uniche informazioni che avevano a disposizione erano quelle che erano riusciti a dedurre avendo soltanto quell'unica prova, la testa. Questa parte del corpo apparteneva ad una donna caucasica. Aveva i capelli corti, fino alle spalle più o meno, di un colore tendente al rosso. Gli esperti inoltre all'epoca stimavano che avesse fra i 30 e i 50 anni. E considerando che il volto era ancora relativamente riconoscibile, ipotizzarono che non era morta da molto tempo. Non più di due settimane almeno. Oltre a questo notarono che il taglio era stato eseguito in modo troppo pulito. La persona che aveva reciso la testa doveva avere una forte muscolatura. Si pensò quindi subito ad un uomo. Comunque avendo solo la testa come prova, ovviamente non erano in grado di stimare con precisione l'altezza o il peso della donna. E ovviamente non avevano capi d'abbigliamento o oggetti personali che aiutassero gli agenti a ricondurli a qualcuno. Le indagini faticavano ad andare avanti. A parte queste informazioni che riuscirono a trovare nel giro di poco, pensarono che là fuori doveva per forza esserci qualcuno che aveva denunciato la scomparsa della donna. Qualche familiare, qualche amico, un conoscente, mil datori di lavoro. Ma nulla. Anche questa pista risultò inutile. Non risultava nessuna persona scomparsa in quell'area con le caratteristiche di Ina. Chiunque fosse, probabilmente non era del posto. Questo rese il lavoro agli investigatori ancora più difficile di quanto già non fosse. C'erano centinaia di migliaia di dispersi segnalati ogni giorno negli Stati Uniti. E la tecnologia del DNA al tempo era molto limitata. Per questo a quel punto collegare quella testa anonima all'identità di una persona sembrava un'impresa praticamente impossibile. Dal momento che non riuscivano a collegare il caso a nessuna denuncia di scomparsa, le autorità iniziano a fare degli appelli ai cittadini. Banalmente incominciano a chiedere alle persone che trovavano per strada se avevano visto o sapevano chi potesse essere quella donna. Ovviamente non mostravano la foto della testa mozzata, anche perché sarebbe stato davvero cruento da vedere. Ma utilizzavano una riproduzione del suo volto basata su un identikit fatto dall'autorità. La riproduzione che avevano fatto però era davvero macabra e guardandola per certi versi non sembra nemmeno umana. Vi starete chiedendo perché aveva questo aspetto così strano? Beh, il motivo è molto semplice. In questi identikit a volte vengono migliorate o esagerate le caratteristiche più distintive delle persone. Questo viene fatto con il fine di renderle molto più facili da ricordare. Se le loro ricostruzioni fossero troppo realistiche, infatti, si correrebbe il rischio di far sembrare il soggetto una persona troppo generica. E anche nel caso di Ina Jane hanno utilizzato questa tecnica. La torsione del viso che vediamo era infatti estremizzata. Questo perché si è scoperto che la donna, mentre era in vita, soffriva di torcicollo congenito. Questa condizione mette sotto stress i muscoli che sostengono la testa, facendo apparire il collo storto. Utilizzando queste informazioni, l'artista aveva realizzato l'identikit con un'estrema simmetria facciale. In parte per saltare subito all'occhio e magari risvegliare qualcosa in coloro che la conoscevano. E in parte perché non erano sicuri di quanto effettivamente fossero gravi le sue condizioni. Per aiutare ad identificarla, nel corso degli anni vennero create anche molte altre immagini oltre a questa. La produzione originale, però, è quella che è diventata tipo virale. E a decenni dalla sua creazione, le persone continuano a parlarne ancora. Lo sto facendo anch'io. Nei vari forum e siti online, questa immagine viene considerata ancora una delle foto più inquietanti di tutto il web. Sfortunatamente, però, per quanto l'immagine sia diventata così conosciuta, non è stato affatto facile scoprire l'identità della vittima. Nessuno contattava la polizia per chiedere di quella ragazza scomparsa nel nulla. Gli investigatori arrivarono a considerare l'opzione che forse la donna non aveva più nessun amico o nessun familiare. Una cosa tristissima da pensare. Questa donna era morta e dimenticata da tutti coloro che la conoscevano, lasciandola sola per sempre, senza neanche un nome. Le autorità erano furiose perché l'assassino sarebbe riuscito facilmente a sfuggire alla giustizia. Le settimane comunque passavano e durante le indagini, un giorno, un dipendente di un bar che si trovava vicino al luogo in cui è stata trovata la testa, chiama gli agenti. Aveva fatto una scoperta molto strana. Il ragazzo riferisce di aver trovato una scritta su uno dei muri del bagno del locale e pensa che sicuramente sarebbe potuta essere utile. Sul muro c'era scritto Non è mai stato chiarito se questa scritta sul muro fosse effettivamente di una persona che aveva commesso quelle atrocità, oppure era soltanto uno scherzo di pessimo gusto. Ma il fatto che era stata scritta nel periodo del ritrovamento della testa e proprio in quel bar vicino al luogo del ritrovamento, rimane molto sospetto per gli agenti. Purtroppo però le indagini sul caso si fermarono poco dopo il ritrovamento di questa scritta. Qualsiasi indagine che facessero continuava a non portare a nulla. Fortunatamente però l'interesse popolare per il caso invece rimase molto acceso negli anni. Una persona in particolare se ne interessò davvero tanto. Non faceva parte delle forze dell'ordine. Era semplicemente una dottoressa, nonché professoressa, dell'Università del New Hampshire. Il suo nome è Amy Michael. Lei è originaria dell'Illinois e desiderava arrivare in fondo al caso, perché non concepiva che potessero avvenire cose così tremende nel suo paese d'origine. Nel 2021 quindi ha contattato il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Jefferson e si è offerta di lasciare il suo laboratorio con tutte le tecnologie più innovative a disposizione dei tecnici forensi. Così forse sarebbero riusciti finalmente ad identificare la vittima. Grazie a lei ci furono scoperte inaspettate. Gli agenti accettarono subito la sua proposta. Dopo aver portato tutte le prove che erano riusciti a raccogliere sul caso, Amy insieme al suo team di ricerca utilizzò una nuova tecnologia per rispondere finalmente a quella domanda infernale che stava attormentando chiunque. Chi era Ina Jane Doe? L'11 marzo 2022, dopo 29 interminabili anni da quel macabro ritrovamento, si è finalmente riusciti a dare una risposta. Grazie ai progressi tecnologici in genealogia, la professoressa Michael è stata in grado di abbinare dei campioni di DNA dal cranio ad alcuni membri della sua possibile famiglia. Una ragazza che poteva essere la sorrellastra di Ina fornì poi un campione del suo DNA per confermare quella teoria e quando i risultati arrivarono ci fu la conferma. I campioni corrispondevano perfettamente e fu così che la donna riacquisì la sua identità. Si chiamava Susan Hope Lund. Era madre di tre figli ed era scomparsa la notte di Natale del 1992. Era andata ad un alimentari per comprare la torta da mangiare alla cena di Natale con la sua famiglia e lì avrebbe anche potuto usare il telefono del negozio. Loro non ne avevano uno in casa e Susan voleva chiamare sua sorella per fare gli auguri. Non possedeva neanche un'auto quindi aveva percorso tutto il tragitto a piedi e fidatevi è una cosa rarissima negli Stati Uniti. Susan viveva a Clarksville nel Tennessee a 280 chilometri da dove era stata ritrovata la sua testa. Pensate che al momento della sua scomparsa Susan era anche incinta. Suo marito e i suoi figli l'avevano cercata per decenni ma visto che non c'erano stati i modi di collegare l'identità di Susan con quella testa non sa però mai nulla. Per tutto il tempo non erano sicuri se fosse successo qualcosa di terribile a Susan o se avesse deciso semplicemente da un giorno all'altro di abbandonarli. Oltre a questo il marito Paul ha dovuto vivere anni di angoscia perché la gente del paese aveva iniziato a creare congetture di cattivo gusto. Iniziarono a mettere in giro la voce che fosse lui il vero responsabile della scomparsa di Susan. Gli investigatori poi hanno confermato che era impossibile che ci fosse Paul dietro a quella scomparsa. Quella sera infatti lui era a casa a prendersi cura dei bambini. E pensate che tristezza. Per sfortuna Paul è morto poco prima che gli agenti riuscissero a collegare la testa all'identità di Susan quindi non riuscì mai a sapere che cosa era successo veramente a sua moglie. La ricerca di Susan era anche stata ostacolata poco dopo la sua scomparsa. Qualcuno riferì di averla vista ad Hopkinsville nel Kentucky. Un altro presunto avvistamento si è verificato nel gennaio del 93 lungo l'Inter statale 65 vicino a Louisville. L'informatore che è rimasto anonimo diceva che sembrava pallida e magra e indossava gli stessi vestiti con cui era scomparsa. Non si sa però se in uno di questi due avvistamenti fosse realmente lei. Ma dato che Susan era morta da non più di due settimane dal ritrovamento della sua testa doveva pure essere andata da qualche parte o doveva comunque aver visto qualcuno prima di morire. Ad ogni modo non è chiaro se fosse stata trattenuta contro la sua volontà durante quel periodo oppure no. Non è nemmeno chiaro se sia stata uccisa all'interno del parco in cui è avvenuto il macabro ritrovamento. C'è anche la possibilità che qualcuno l'avesse uccisa per poi portare soltanto la testa in quel luogo per depistare le indagini. E sinceramente credo proprio che sia questo il caso. A questo punto comunque forse qualcuno di voi si starà chiedendo come mai le autorità all'epoca non riuscirono a collegare la testa alla denuncia della scomparsa di Susan. Ebbene c'è una spiegazione. Nel marzo 1993 una donna anonima ha chiamato la polizia dicendo di essere Susan Lund. La donna sosteneva di essere viva e vegeta e non voleva in nessun modo essere trovata. Da quel momento in poi gli agenti hanno semplicemente presunto che Susan fosse ancora viva e semplicemente scappata dalla famiglia. Chiusero quindi il caso di Susan senza verificare effettivamente chi avesse fatto quella chiamata. E il caso venne chiuso definitivamente. Ma cosa successe a Susan durante quel tragitto verso il negozio di alimentari? Purtroppo non lo sappiamo di preciso. Vennero fatte alcune teorie però basate su un fatto in particolare. La distanza tra la casa di Susan e l'alimentari era di circa 12 chilometri. Una distanza non proprio brevissima. Anche per una persona normale non sono proprio pochi. E in più dobbiamo ricordare che Susan era anche incinta. Quello che sappiamo con certezza è che Susan è arrivata in quel negozio. Perché secondo le testimonianze era riuscita a chiamare la sorella. Durante questa chiamata Susan sembrava molto rilassata e felice. E ha parlato con lei di quando si sarebbero viste. Vista la distanza tra casa di Susan e il negozio però sarebbe dovuta essere molto stanca dalla camminata. Invece non lo sembrava affatto. Quindi è probabile che Susan per raggiungere il negozio abbia fatto autostop e accettato il passaggio da uno sconosciuto molto gentile che si è offerto di accompagnarla fino a lì. Al ritorno potrebbe aver fatto la stessa cosa ma questa volta la persona ad accompagnarla non sarebbe stata altrettanto buona. Anche se finalmente l'identità di Ina Jane Do è stata scoperta, quella del suo assassino o assassini. Invece rimane un mistero ancora oggi e forse è destinata a rimanerlo per sempre. Altre domande comunque rimangono senza risposta. Chi era la donna che ha chiamato la polizia fingendosi Susan? Che aveva lasciato quel messaggio agghiacciante nel bagno di quel bar? E quella più grande che fine ha fatto il resto del corpo di Susan che non fu mai trovato. Gli agenti dopo 29 anni stanno continuando a fare ricerche ma per ora tutte queste domande rimangono senza una risposta. Per concludere torniamo alla foto iniziale. Guardandola è semplice capire come mai non abbia portato a molti collegamenti. Dopotutto quella rappresentazione con il collo e il viso così storto non rappresentava esattamente il volto di Susan. Che sì aveva una forma di torcicollo ma era quasi invisibile. Se però non fosse stato per questa riproduzione così strana sicuramente non se ne sarebbe mai parlato così tanto. Per quanto terrificante possa sembrare è proprio grazie a questa foto che Susan ha avuto almeno un pochino di giustizia. O come minimo un po' di dignità. Secondo me comunque qui non si tratta di un solo assassino. Sembra qualcosa fatto troppo bene come se ci fossero tante persone coinvolte. Purtroppo per ora possiamo fare solo ipotesi. Quindi non vedo l'ora di leggere le vostre nei commenti di questo video. Adesso io come al solito vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!